Ciao e ci troviamo oggi per un video spacchettamento al volo di questo pacchettino di un ordine di blizzi che ho fatto e che non aspettavo oggi perché pensavo ci sarebbe voluto almeno un mese dall'ordine Allora ho ordinato la Webster Pages, il Cavalier, quello marrone insomma, non mi ricordo il nome esatto comunque è quello marrone, ve lo faccio vedere subito e l'ho ordinato il 22 di novembre, l'ordine è partito il 23 c'erano degli sconti prima, proprio pochi giorni prima degli sconti della settimana del Black Friday e quindi c'erano questi sconti, l'ho pagato 20 dollari e 98 che hanno anche dichiarato l'oro qui no ovviamente no, un aspetto che mette a fuoco, mi dimentico ogni volta ma va bene, comunque ho solo tolto la cosa qua, l'ho tagliato ma non l'ho aperta quindi ve la mostro subito al volo perché sono troppo felice oggi purtroppo sono piena di dolori cervicali e quindi questo pacchettino mi sta rallegrando la giornata visto che le medicine non mi aiutano ok, adesso apro la pellicola e ci rivediamo ok, rieccomi e non l'ho aperta giuro non l'ho aperta sto prendendo tutta una mano perché sto con il telefono oddio troppo bello beh la solita pellicolina la mettono sempre avanti ma è fantastica e provo a cambiare l'inquadratura, magari poggio il telefono da qualche parte vediamo un po' se ce la faccio allora questa è l'agenda il planner, il notebook buonanotte sa proprio di pelle non sapevo se era effettivamente pelle vera o meno cioè onestamente è la prima webster che ho e devo dire che mi piace tanto anche se vedete che comunque è lavorato è molto liscio il fatto mentre la carpe diem è leggermente più ruvida per toccarla comunque la apriamo è bella è proprio morbida è bellissima allora credo sia dorato qui dentro solo che siccome ho la luce gialla qui non riesco a vedere bene l'interno qua è rosa ma l'avete visto già da tante persone quindi non mi preoccupo se non si vede benissimo ecco è giusto per condividere con voi la mia gioia allora qui abbiamo le tre tasche anche profonde per di più guardateci questa si vede la tasca tasca grande il taschino tascone il quadernino che è bianco semplice con scritto e l'ho rettattato qui e dietro webserpages.com il sito il taschino qua e la tasca dietro è grande sinceramente pensavo o temevo che fosse più piccola almeno che arrivasse almeno qua perché ho dei quadernini che ho preso su Aliexpress che sono piccolissimi quindi probabilmente me li dovrò rifare io a mano per averli della della misura di questa ecco e niente io questa l'avevo voluta perché avevo bisogno di qualcosa da portare in borsa effettivamente è grande e quindi ce la farò entrare allo stesso perché tanto io di solito vado in giro con le borse di mary poppins e quindi niente l'allestirò e vi farò vedere ve la farò vedere ma vedete che forse posso farvela vedere meglio così perché ho fatto uno schifo fino a mo quindi ricominciamo letteralmente oh vedete purtroppo sono ancora un po' nuba nel mestiere quindi qui si vede bene tutto la tasca l'altra tasca si è forse è oro rosa questo certo guarda io ho scelto una giornata piovos o meglio il postino ho scelto una giornata piovosissima per consegnarlo e giustamente non potevo aspettare ad aprirlo e il fatto che si è riuscito ad aspettare il pranzo per spacchettarlo proprio per fare il video già già è tanto quindi oltre non poteva andare che bello 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 vado l'ora di riempirla e cicciottirla il mio progetto iniziale era di avere un qualcosa tipo come quando si usano le filofax quelle quella portafogli che non mi ricordo come si chiama penny bridge con le card dentro e ecco l'uso sarebbe quello ho preso un inserto per card da mettere al posto di uno dei quaderni dovevo mettere tutte le mie tessere di tutti i negozi perché nel mio portatessere non c'entrano quindi la scusa per questa agenda era quella perché ovviamente cerco di darmi una scusa per ogni agenda che compro e ho già ordinato le nuove da Giorgia del canale del canale The Fabulous World MCG se non la conoscete conoscetela e ahimè il mio portafoglio l'ha già conosciuta ecco tanto per dire e aspetto che usciranno insomma queste nuove agende e vi farò vedere anche quella che c'è scritto qui be the change ok niente questo è quanto e appena riuscirò a a sistemarla e ve la mostrerò per bene ciao